89 interventi svolti in emergenza, oltre 60 programmati per quasi 5 milioni di euro di investimento. Numeri che sono stati al centro dell'attività del Consorzio di Bonifica delle Marche che oggi nel Comune di Pesaro ha presentato il report di un'azione trasversale fra tutela del territorio, prevenzione al dissesto idrogeologico e ripristino delle idraulicità minori alla luce soprattutto dello straordinario impegno successivo all'alluvione di settembre. Sono 69 gli interventi che abbiamo segnalato all'interno del programma di mitigazione del rischio idraulico voluto dal commissario per l'alluvione per oltre 4 milioni di euro, circa 5 milioni di euro. Speriamo, come sembra, che i finanziamenti siano repentini per cominciare subito a mettere in moto gli escavatori. Noi il giorno dopo l'alluvione eravamo già con nostre aziende sul territorio, anche su quelli che non erano immediatamente presenti nelle TV, faccio riferimento soprattutto alle aree montane perché Cantiano sicuramente è stato un disastro, ma un disastro è stato altrettanto in altri territori dell'Alto Pesarese. Abbiamo già speso oltre 700 mila euro per interventi di prima emergenza. Non è sicuro che tutti ci verranno rimborsati, ma noi l'abbiamo fatto perché avevamo l'esigenza di dare un'immediata risposta. Alla presenza anche delle associazioni di categoria degli agricoltori, CIA e Coldiretti, Netti ha sottolineato il carattere eccezionale dell'alluvione di settembre, ma anche la necessità di attrezzarsi ad eventi che saranno sempre meno rari. L'alluvione è stata una cosa molto importante, questo non lo dobbiamo dimenticare. La relazione fatta dai servizi della protezione civile parla di una pioggia millenaria, cioè qualcosa di incredibile, 400 mm di pioggia in sette ore. Ricordiamoci che l'evento di Casa Micciola, che purtroppo ha interessato di nuovo le cronache nazionali, ha visto meno di un quarto, un quarto di quella piovosità, cioè 100 mm di pioggia, 400 sono veramente qualcosa di incredibile. Ci dobbiamo attrezzare. Io leggo sempre con molto piacere alcune relazioni che i nostri tecnici hanno redatto 40 anni fa quando hanno realizzato le dighe, dicendo che ci sarebbe stato un problema di siccità nel territorio. Oggi dobbiamo dire che assieme alla siccità dobbiamo registrare anche gli eventi catastrofici di piogge intense e molto spesso anche imprevedibili.